Musica Allora, ciao a tutti e bentornati sul canale del Garante In questo video andiamo a vedere come funziona il comando esporta e importa di SAP Il video sarà un po' complicato, effettivamente, però cercherò di essere il più chiaro possibile Essenzialmente questa funzione l'ho scoperta perché avrei dovuto cambiare a mano un grandissimo numero di dati E ho cercato uno dei metodi più veloci per farlo Quindi molte volte è la pigrizia o comunque la fatica di fare certe cose che ti fa scoprire un comando che è velocissimo E questo è stato proprio il caso Quindi vi faccio vedere nel mio caso, però ci sono sicuramente tantissimi altri utilizzi che possono essere fatti Quindi io essenzialmente mi sto trovando a progettare un ponte, una struttura abbastanza semplice, una trave, un arco e dei pendini Quindi, come potete vedere, ho fatto tre tipi di struttura Una con una trave più massiccia, un arco fine e pendini Una con arco massiccio, trave sottile e pendini E un'altra struttura, una terza, con arco e trave hanno stesso spessore e pendini Quindi essenzialmente io che cosa ho fatto? Sono andato a caricare questa struttura Per caricare questa struttura, che cosa ho fatto? Come sempre ho dovuto creare Ho dovuto creare dei load pattern Questo video è ricollegato in parte anche al video che ho fatto qualche tempo fa Che è caricato sempre sul canale in riferimento al comando range add Ok? Quindi in questo caso che cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere come essenzialmente cambiare tantissimi valori in maniera molto veloce Quindi che cosa ho fatto io? Mi sono andato a creare 28 load pattern per caricare la mia struttura Ok? Quindi come potete vedere ho 28 pezzi di questa trave Quindi il primo pezzo l'ho caricato con un carico così a caso diciamo di 12 kN a metro Ok? Con load pattern 0,1 Secondo pezzo di trave l'ho caricato sempre con 12 kN a metro Load pattern 0,2 Terzo pezzo con load pattern 0,3 E così via fino ad arrivare all'ultimo pezzo di trave che è caricato con il load pattern 28 Ok? Come potete vedere sempre 12 In questo caso l'ho fatto anche per le altre due strutture E poi volevo essenzialmente andare a replicare queste tre strutture E vedere variando il numero di pendini in ogni struttura che cosa ci fosse di diverso Ok? Quindi CTRL R per replicare Diciamo verso l'alto di 15 per 3 volte Ok? Andiamo a selezionare sempre tutti i gruppi Benissimo Check and check all Quindi come vedete 15 box attive sono state selezionate E clicchiamo su ok Quindi come vedete adesso abbiamo 12 strutture Quello che essenzialmente sono andato a fare io vi faccio vedere solo un esempio E' stato quindi rimuovere un pendino ogni due per la prima struttura Ok? Poi due pendini nella seconda Ok? E poi tre pendini nella terza Quindi questo per adesso non ha niente a che fare con il comando range add e il comando import export Vi faccio solamente vedere il risparmio che ho avuto Quindi stessa cosa l'ho fatta per queste altre strutture Ok? Quindi mi sono messo qui e anche qui ho selezionato quest'altro pezzo Ok? E l'ho fatto per tutte Benissimo, ho mandato l'analisi e ho trovato i risultati Poi essenzialmente dovevo validarli a mano Ok? Quindi che cosa ho fatto? Ho detto, cavolo, adesso avevo messo un carico di 12 kN a metro Però sarebbe molto più comodo avere un carico di 1 kN a metro Eh, però adesso come faccio a cambiare tutti questi carichi di 12 kN a metro? Eh, devo andare qui Assign, frame load, distributed E metterci uno qui Ok? Quindi a mano mi dovrei cambiare tutti questi carichi qui Per 28 volte, per 12 strutture E a quel punto ho detto, no, è impossibile E allora ho detto, magari, vabbè, cancello queste, chi se ne frega E ricancello tutti i pendini Però effettivamente avevo già cancellato tutti i pendini giusti Riassegnati i gruppi Assegnato i nomi ai nuovi pendini, ok? E mi scocciava, sinceramente, dover rinominare tutte queste cose E a quel punto mi è venuto in mente che c'è la funzione esporta Vediamo come funziona Voi che cosa fate? Essenzialmente vi selezionate quello che volete esportare Per esempio da modificare In questo caso io ho il carico da dover modificare Ok? Quindi nel mio caso io posso selezionare tutte le strutture Perché quelle che voglio modificare sono solamente le travi Ok? E solamente le travi sono caricate Per cui posso selezionare tutto, ok? Se invece voi, per esempio, aveste Diciamo questa struttura che ha dei carichi anche su altre parti Che cosa dovreste fare? Dovreste fare Dovreste selezionarvi, in questo caso, per esempio, solamente le travi Ok? Di tutti questi modelli Quindi essenzialmente solamente le travi Se voi volete modificare il carico sulle travi Quindi io in questo caso vi faccio vedere che è la stessa cosa Poiché ho carico solamente sulle travi e non sull'arco o sui pendini Per cui seleziono tutto Clicco su File Export Formato XLS Ok? In questo caso, che cosa faccio? Io voglio modificare il load Essenzialmente il carico sulle travi Per cui vado a cercare Frame Assignment Quindi Frame Load Table Frame Load I Load Pattern ci sono tutti Benissimo Selection Only Sì E quindi clicchiamo su OK A questo punto Ci salviamo sul desktop Questo file qui Ok? Vi darà un nome adesso Io l'ho sovrascritto Ma ve lo crea da zero Quindi io, per esempio, per comodità Lo salvo sempre sul desktop Adesso andiamo a aprire questo file Come vedete abbiamo un sacco di numeri e valori Chiaramente quello che ci salta all'occhio è il 12 Ok? Che è proprio il carico che noi abbiamo assegnato Quindi come vedete queste due colonne qua Quindi noi facilmente andiamo con CTRL SHIFT freccia giù A selezionare tutto e quindi sostituire il carico 12 col carico 1 Quindi cliccando su Sostituisci tutto Cliccando su OK E chiudendo Una cosa a cui dovete fare molta attenzione Sono i nomi del Load Pattern Ok? Per esempio in questo caso Abbiamo 01 Ok? Quindi su SAP dobbiamo verificare Che cosa? Che il nostro Load Pattern si chiami effettivamente 01 Benissimo Quindi i nomi del Load Pattern Sono 01, 02, 03, 04 fino a 09 E poi 10, 11, 12 fino a 28 Quindi noi adesso con un semplice Sostituisci su Excel Ci siamo andati a essenzialmente modificare tutti i valori che da 12 diventano 1 Salviamo e chiudiamo A questo punto cliccate qui in uno spazio bianco e cliccate ESC File Import XLS A questo punto SAP dice New Model Voi cliccate su Add Existing Model Advanced Options Item with the same name Overwrite Replace Replace Item with the same location Replace 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 Ok? Cliccate su OK E di nuovo su OK Adesso Prendete il file che avete appena salvato sul desktop E lo aprite E in questo caso Dopo aver aspettato qualche secondo Se non ci sono errori SAP Vi darà il numero di Informations Ok? In questo caso come vedete 348 informazioni Che sono stati sostituiti Ok? Se ci fossero degli errori Ci sarebbe il comando Warning Dopo vi faccio vedere anche cosa succede nel caso di Warning E quando è che ci dobbiamo preoccupare Quindi cliccate su Done Andiamo a vedere se è stato sostituito il carico Cliccate sulla prima trave Tasto destro Load Vedete? Adesso è 1 Non è più 12 E non solo su questa Ma su tutte le travi Della struttura Ok? Vedete? Prendiamo questa per esempio Ok? Load 1 Quindi voi avete sostituito In pochi secondi Vediamo 28 travi per 12 modelli 336 Ok? Quindi avete fatto 336 sostituzioni Cavolo È un bel risparmio di tempo Più che mettervi lì E cambiarle uno a uno Adesso vediamo anche un errore Che può essere frequente Che mi è capitato Molto spesso Ok? Vediamo cosa succede Intanto andiamo a selezionare solamente la trave File Export Sempre formato XLS Sempre Frame load Distributed Ok? Salviamo sul desktop Questo file E andiamo ad aprirlo E ad esempio Noi vogliamo sostituire Il carico 1 Col 5 Per esempio Vogliamo mettere 5 kN al metro Quindi 1 con 5 Sostituisci tutto Ok? Fate attenzione a questi qua Attenzione Come vedete Non c'è lo 0 davanti E questo molte volte può fregare Ok? Io non l'avevo mai visto Questo errore qui Mi è capitato Sono andato a indagare E fortunatamente ho trovato l'errore Quindi Noi adesso Se non ce ne accorgiamo di questo Abbiamo visto Che le sostituzioni sono state fatte Clicchiamo su salve E chiudiamo come prima Torniamo sul nostro modello Cliccate su un Un punto qualsiasi Esc File Import Ok? XLS Add to existing model Le opzioni avanzate Sono le stesse di prima E cliccate su ok Prendete il file Appena fatto adesso Cliccate su apri Adesso farà più veloce Perché sono Meno travi E voi direte Vai Perfetto Adesso Sostituisce Esattamente come prima Senza warning Però Vedete C'è warning adesso E sono 9 Quindi Cavolo Che è successo? Come mai non ha sostituito Quelle travi lì? Eh Purtroppo non le ha sostituite Perché Il load pattern Si chiama 0,2 E non 2 Ok? Quindi andiamo a vedere 0,1 2,3,4,5,6,7,8,9 Quindi fino al 9 Non li ha sostituiti Perché non c'era lo 0 davanti Il decimo L'ha sostituito Ok? È diventato 5 Come anche gli altri Anche il 18 È stato sostituito Quindi adesso Che possiamo fare Per ovviare a questo errore? Intanto Cancelliamo Questo file xls Che non ci serve più Riselezioniamo la trave Ok? Oppure tutto anche Avete visto Che non c'era differenza Perché? Perché il carico Era solamente sulla trave Quindi file Export xls file Salviamo sul desktop Andiamo ad aprirlo E adesso vedete Ci sono tutti 5 Tranne questi qua Io adesso invece Gli voglio 5 anche questi Però che cosa devo fare? Quindi Sostituisco 1 con 5 Sostituisci tutto E a questo punto Visto che questo è 1 Io non voglio 1 Io voglio 0,1 Per cui devo andare qui in generale Cliccare sul testo E qui scrivere 0,1 A questo punto Che cosa faccio? Trascino tutto verso l'alto Come vedete Riparte poi dallo 0 Quindi qui prendete Tutto questo Lo trascinate verso il basso E poi alzate Fino a 0,9 Adesso è completo Ok? Se volete essere precisi Lo spostate qui a destra Ma non importa Adesso cliccate su salva Chiudete E tornate sul modello Quindi Cliccate in un punto vuoto Esc File Import XLS file Add to existing model Essenzialmente come prima Riprendiamo il file appena fatto E corretto Con gli 0 davanti A 1,2,3,4,5,6,7,8,9 E adesso Come vedete Vi darà Solamente Informations Senza warning Ok? Quindi in questo caso Vi ha sostituito Anche i load pattern Che avevano lo 0 davanti Quindi 0,1 Come vedete Adesso In questo caso Abbiamo 5 Anche Per questi load pattern Quindi Il vantaggio Di questo tipo Di comando E che voi Essenzialmente Vi andate a sostituire Tutto quello che volete In un attimo Su Excel E poi Lo potete ricaricare Sempre da Excel Su SAP Quindi Io Spero che questo comando Sia stato utile E se volete vedere Magari qualche altro Utilizzo Potete provarlo Oppure Me lo chiedete Nei commenti Sotto al video Spero che Sia un video Che si capisca La Velocità E il vantaggio Di usare Questo tipo Di comando Io ve l'ho fatto vedere Applicato solamente A un tipo di carico Chiaramente Potete Sbizzarrirvi Ecco Questo era Un esempio Di quanto È veloce E utile Questo comando Per cui Vi ringrazio Dell'attenzione Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti